Siete perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma stiamo scherzando? Ma Gesù si è reso conto dell'attuale situazione dell'uomo. Ma forse si è dimenticato come ha lasciato il mondo quando è partito per l'ascensione. Duemila anni di cristianesimo, che cosa hanno lasciato? Hanno portato l'umanità verso la perfezione oppure siamo tentati di dire siamo verso il degrado? La disonestà imperversa, le guerre infuriano da tutte le parti, l'egoismo fa da padrone nell'umanità. Beh, non cominciamo con l'autofragellazione, perché poi non è neppure vero né per questo. Leggiamo invece un'altra versione che ci dà Luca della parola di Gesù. Matteo ci dice, siate perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. Luca ce lo traduce, ci dice, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. La perfezione dell'uomo è tutta nell'amore, la pienezza dell'amore. Ci dice San Paolo che anche se dessi il mio cuore, il mio corpo ad ardere, ma non avessi la carità, non sarei niente. La perfezione dell'uomo è l'amore, la pienezza dell'amore. E questa pienezza dell'amore noi dobbiamo tendere di raggiungerla perché è soltanto l'amore che ci rende simili a Dio che è amore. E' soltanto l'amore che rende efficace la nostra azione rendendoci creatori come Dio che ci ama e ci crea. E' solo l'amore che dà il colore a tutte le cose, è il sole della vita perché è Dio, Dio è amore. Cari amici, ogni domenica andiamo all'Eucarestia a nutrirci di Dio che è amore per essere irradiati dal suo amore e riempire il mondo. In quel momento lì noi diventiamo perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli perché diventiamo una cosa sola con Cristo. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Abbiamo capito che cos'è la santità, è la pienezza dell'amore. Buona domenica. Buona domenica.